Un bene confiscato alla mafia diventa una sede per l'ASFA all'Associazione Famiglie Siciliane. Siamo in Contrada Favara a Monreale e il bene facente parte del patrimonio comunale di Monreale è una villa che sarà sede dell'Associazione a Sostegno delle Famiglie Siciliane e sede anche dell'ANAS Zonale Policlinico, nel ricordo soprattutto dell'Avvocato Enzo Fragalà nel decennale della sua scomparsa. Noi come Governo regionale vogliamo dare massima attenzione a questa come a tutte le iniziative che hanno a cuore i più bisognosi e i più deboli. La mia presenza qui testimonia l'interesse del Presidente Musumeci rispetto a queste iniziative. Stiamo lavorando per una Sicilia più solidale che si muova nella legalità ma che dia segnali concreti perché le classi più bisognose si sentano meno sole e più vicine soprattutto a chi ha il dovere di governare questa terra. Allora la destinazione d'uso di questo immobile è principalmente di avere un'aula di formazione a norma per creare una sala della cultura e della legalità perché in un bene confiscato è l'asse primario per traslare al territorio quello che noi vogliamo fare. Cioè questa aula di formazione deve servire per fare corsi per l'ambiente che è il futuro del domani e soprattutto riguardare in particolare ai bambini che hanno l'ASPER ossia gli autistici non violenti. Oggi è un giorno molto importante perché siamo qua a presenziare un'intitolazione significativa all'On. Fragalà, uomo che ha pagato quella sua vita per mantenere fermi i propri valori e il proprio impegno sociale e politico. Oggi siamo qua perché questo bene confiscato da questo momento avrà ancora più luce con questa intitolazione. È un bene confiscato che il Comune di Monreale ha dato in concessione all'ASFA Sicilia la quale si sta interessando per una serie di progettualità per rivalutarlo all'interno di questo contesto ambientale e sociale.